Il territorio era quello di innanzitutto gestire in maniera associata un servizio che è tra quelli fondamentali, cioè quello della polizia locale, cercando di garantire ad entrambi i comuni un prestigio territoriale più efficace, più efficiente e superando quelli che sono gli stretti limiti anche del budget del personale che gravavano sia sull'uno che sull'altro comune. Il comune di Roda è molto grato al comune di Piottello perché ovviamente ci rendiamo conto che siamo un po' la cenerentola in questa convenzione avendo in questa fase risorse abbastanza limitate, ma ovviamente faremo il nostro possibile per mettere tutte le nostre risorse a disposizione di questa nuova unità che diventa la polizia locale di Piottello Rodano, quindi diventa un corpo unico. Le competenze ne abbiamo e sicuramente sono molto disponibili a collaborare e ad entrare in questa nuova esperienza. Con le nuove linee di Regione Lombardia le indicazioni sono quelle di convenzionare piccoli enti a enti più grandi in maniera da poter garantire un'efficienza dei servizi più marcata sui territori. E questo è uno dei primi casi in cui questa nuova impostazione viene posta in essere. Quindi uno degli aspetti innovativi della convenzione tra Polizia Locale di Piottello e Rodano è proprio questa nuova sinergia fra un grande comune e un più piccolo comune che uniscono le loro forze e il comune più grande assiste sotto il profilo operativo quello più piccolo. Lavorare in un modo diverso, creare modelli organizzativi diversi di questa natura, cioè associarsi in particolare al modo a questi per comuni che hanno una popolazione inferiore 5.000, evidentemente è un discorso che secondo me quanto prima si estenderà a una moltitudine di comuni. Ma proprio per l'aspetto innovativo di questa convenzione sono rimasta un po' basita proprio nell'osservare che questo progetto pilota, partito quindi anche in passato, poi non approdato ad un risultato concreto, sia stato invece osteggiato dall'opposizione che siede nel nostro Consiglio che evidentemente non ne ha colto nello spirito, nella funzione, nelle prospettive di risultato che questa amministrazione tende a raggiungere. Il firmare e convenzioni di questo tipo richiede un salto di prospettiva e un salto di qualità nel modo di pensare e di amministrare le cose. Nessuno può più pensare di poter riuscire a gestire un qualunque comune, una qualunque amministrazione da solo. È quindi necessario guardarsi intorno e ovviamente le prime persone a cui guardare sono i vicini. In questo senso c'è bisogno proprio di una classe politica nuova, una classe politica che non guardi solo al domani, ma guardi al mese prossimo, all'anno prossimo, ai 5 anni futuri e che abbia come suo obiettivo principale il bene delle persone che amministra. Ho preso male il voto del Consiglio Comunale di Pioltello. È stato indicatore di una certa classe politica che probabilmente ha fatto il suo tempo. Voglio fare anch'io i miei ringraziamenti al Sindaco e condivido il pensiero di prima, cioè il fatto che a prescindere dal colore politico qui, la cosa importante non è il colore dell'amministrazione che si convenziona, ma il benessere del produttore ultimo del servizio, ossia il cittadino che sia di destra e di sinistra, questo non ha nessun rilievo per quel che costa ed è un pensiero condiviso anche dal Sindaco Bruschi.